Ciao, ciao a tutti! Sono tornato a vedere con soddisfazione come è andato molto bene un progetto che avevamo fatto sulla gestione degli acquisti che prevedeva la gestione degli ordini, il parco fornitori, la parte economica finanziaria e la parte del budget. Durante questo incontro ho raccontato una frase di Tostoi che oggi vorrei condividere con voi. Non c'è nulla di più forte di quei due combattenti che sono il tempo e la pazienza. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, così ci confrontiamo. Concentrazione, concentrati in azione!